L'immagine della Beata Vergine del Carmine in solenne processione per le vie del centro storico di Tolmezzo accompagnata dai fedeli e dalla banda di Venzone. Hanno ufficiato la celebrazione il vescovo emerito Lucio Soravito assieme a Don Angelo Zanello. Ecco le immagini. In descrizione trovi link anche dei video relativi all'ottantatresima sagre da madonna e dal Carmine tal Borgat e in particolare quello sulla mostra allestita alla torre Reitenberger dedicata a 50 anni di Pink Floyd ed il tradizionale incontro tra Sears e Puars. Inoltre trovi anche video relative alle edizioni passate. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un mi piace. Buona visione da scriptanews.it Noi vogliamo di amico Noi vogliamo di amico Noi vogliamo di amico Noi vogliamo di amico Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.